in questo nuovissimo filmato oggi nuovo what it in a day a distanza di qualche settimanella abbondante e ci sta primo video della settimana e incominciamo con una tipologia che so che amate tantissimo partiamo dalla fantastica colazione che ma sì dai sicuramente lo sapevate non poteva mancare il tè con i miei soliti biscottini e così via la mia giornata non può incominciare altrimenti in tale maniera se no non sarebbe l'inizio di nessun giorno per il pranzo sapete la colazione di mezza mattinata è rarissimo che la faccio praticamente mai però in alcuni ambiti in alcune situazioni mi capita ma è veramente una cosa epocale al massimo per il pranzo ho mangiato questa fantastica insalata iceberg la mia fissa del momento da mesi e mesi oramai e tuttora rimane la amo tantissimo mi piace il fatto che quando la mangi scrocchia un po veramente buonissima che poi io non compro le buste già pronte ma bensì parto proprio dall'ortaggio come si chiama l'ortaggio penso l'insalata sia un ortaggio credo vabbè comunque parto proprio che dal supermercato prendo la palla taglio una metà insomma in base a quella che mi serve la metto ad igienizzare tutto quanto la sciacqua la lavo e così via poi la taglio a pezzetti come preferisco di grandezza quando scoperto ultimamente questo alimento i motori secchi lo so che esistono tipo dai tempi dai tempi una cosa o un'altra non ci faccio tantissimo col pomodoro quindi l'ho sempre un po snobbati però ho avuto modo di assaggiarli nell'ultimo periodo e anche questi qui sono diventati una fissa del momento quindi li spezzetto tutti quanti li faccio tipo a stricciolina cubettini a pezzetti insomma piccolino come state notando poi ci metto i miei taralli non pugliesi comunque taralli da supermercato quelli pugliesi sono senz'altro più buoni però mi sembra che questi qui sono pugliesi però sempre di supermercato è quelli della puglia puglia quando ci sono stata sono in confondimento alla merenda del pomeriggio pasto che non manca mai nella mia quotidianità non lo salto praticamente mai 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 è assolutamente per me è vitale il pomeriggio mangiare qualcosina quindi un tè una tisana un infuso dei miei in questo caso ho scelto il tè nero aromatizzato ai frutti rossi mi sembra che il tè nero se non erro della twinings se non sbaglio comunque è un tè poco ma sicuro buonissimo che stia qui della twinings perché hanno un sapore super super intenso e piacevole allo stesso tempo accompagnati dai miei mitici e indispensabili anche loro amaretti veramente sono buonissimi questi biscotti oramai da mesi e mesi altro che fissa di più e per quanto riguarda la cena ero a casa del mio fidanzato per cui l'ho fatta lì anche perché poi dopo sono rimasta a dormire da lui abbiamo cenato insieme ovviamente sottinteso no quindi ha fatto questo pomodoro o meglio il sugo con le polpette che è una pietanza che amo tantissimo ma ditemi che cosa non amo una buona forchetta 360 mi metti davanti di tutto e di più e al 90 per cento ma anche al 99,9 te lo mangio mamma mia che buona gustaglia che sono sfortunatamente per il mio appetito per i miei chili ma soprattutto per la mia felicità immensa quella cioè ragazzi quando si mangia si è felici perlomeno per me è così ma no attenzione non è che mangiando si è felici si è felici se ti piace il piatto la felicità è una cosa a parte il mangiare non so se si è capito quello che voglio farvi intendere perché da come l'ho detta sembra che la felicità è il mangiare no la felicità è una vita composta da tante altre cose penso è sottinteso ero da lui perché rimanendo a dormire di conseguenza dopo la cena sono rimasta a casa sua mi sono fatta questa bella tazzona di finocchio il finocchio me lo sono portato da casa perché lui si limita solamente al tè non è tanto amante di tutte le altre infusioni tisane queste cose qui per carità qualcosina la beve però la fissata e la amante lover sono io perciò il finocchio l'ho portato da casa tutti felici e contenti con questo è veramente tutto ci vediamo mercoledì alle due e mezza con nuovi sul canale vi mando un bacione immenso un abbraccio fortissimo buongiorno buonasera non so perché quando vedrete questo video ciao ciao